Allarga bene i genocchi. Oh! E' un cazzo che mi libera. Capito? E questo è anche dolore. Unisci braccia dall'altra parte. Ma che ora bisogna andare? Bene. Sta qui e poi... Brava! Oppa! Ah! Stop! Stop! Più libero. Non cerca di controllare proprio tutto. Gambo controlli bene. Capito? Si. Meglio. Questi cose devi fare. Sweep. Sweep, sweep, sweep. Si metti i genocchi, tu sei stop. Voi gambero. Facciamo un po' piccino gambero. Treppo. Fai questo uscito come abbiamo cominciato. Stai, 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 stai. Non stai, stai, stai. Uscito. Hop. Unito a terra. Ah, quello è l'ultimo? Primo, primo, primo. Sì. 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 Bravo, questo fai. Adesso brandero. Sì. Bravo, questo fai. Sì. Aspetta. Adesso sarò di qua. Ah, vada. Sì. Ah, ancora. Sì. 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 Tu puoi scegliere quello che vuoi. scegliere. Bene. Guard. Passare guard. Leva di braccio. Questo devi fare. Leva di braccio. Questo dipende. Leva di braccio. Il soffocamento. Questo può essere. E a terra. A terra. A terra. A terra. Questi sono tre movimenti. Si, vediamo il braccio. Altra. Lo. Lassi. con il braccio. Lassi. Altra. Piediro. Sì? Youtì. Sì? 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 e poi fai imitazione e tirame di colo ancora piano ancora si andrà e poi fai opp opp solo e e alle e o e le Sì 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 sì, andrà andrà, se stia scond da braccio? E dà un'altra al corp. Ma? 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 Sì sì sì, lovarò un po' più più l'opo questo braccio. Sì sì, tirano di con loro, io mi ridurgo che poi apoi appreste. Ok, ok, ok. Oh sì sì, perché lui avrà vola di scendere così e così. Oh sì, non in laterale. Tu, qui è venito. Sì? Sì. Lassate qua. Adesso girami e entrate al corp. Girami e al corp. Metro? Sì. No, questo non fai perché... Poi... Si, basta. Pieghi e sempre vai indietro. Pieghi...